sì benvenuti in live ciao a tutti oggi siamo tornati su gta finalmente a fare live scusate per questa mia grande assenza ma purtroppo in rp ci sono state troppe cose che avrebbero che non riuscivo a streamare troppe cose sono successe troppe cose non ho potuto streamare questi giorni perché in rp successe delle cose che diciamo non me la sentivo restimare cioè non volevo però sono tornato con emily wilson sempre licenziata ma ora è una dottoressa non più poliziotta non più sergente ma dottoressa specializzando emily wilson e ora salveremo vite salve signora bisogno salve mi sono appena sviato l'ospedale qua e vuole fare una visita o qualcosa no me l'ho già fatta credo sto a posto va bene grazie mille a vederci e perché non ho non ho cellulare non so come mai forse lo trovo in centrale se l'ha perso si e non ci vado a vederci a vederci a vederci a vederci a vederci a vederci ciao carmen ciao amy li comunque no ma lo vedo che ogni tanto cambia colore la mia voce però non è colore perché tu hai la voce colorata aspetta aspetta hai la voce colorata carmen di che colore ora io quando la veda colorata peggio no ma donna le orecchie ai a chi mi cuore le orecchie se sono il medico ma io non mi rendo conto sto urlando no adesso no a meno male pronto 9 1 1 servizio medico medica sì sono leo storm c'è stato un incidente davanti all'ospedale c'è il dottore insomma a terra oddio sta arrivando ok ciao marcele come stai a vederci oh mio dio si spostiamo molto grazie dottor felice insomma mi sente felice insomma mi sente ok ha un po male mi sa che non riesce a parlare riesce ad alzarsi signor insomma riesce ad alzarsi dottore sì ok piano piano oddio ma perché è laggiù ok un attimo solo rimanga qui per la parella eh sì ok salga pure oddio perché è lì la vedo far avanti e indietro non so dottoressa ma è vero che mi fanno una cacca nell'ufficio non lo so quale sia il suo ufficio salga salga è l'obitorio beh diciamo che nel cioè l'accessore diciamo lì lo usano come bagno ho sentito ho sentito cioè io non lo so ecco esattamente però mi ha detto così ma non ha detto ecco ecco se il manca va dentro eh perfetto leghiamolo bene alla alla barella che magari mi vola fuori ok perfetto ok la porto 5 metri più indietro ok ok insomma ecco ti porto dentro oppa 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 ecco qua ecco qua riesci ad alzarsi? che non faccio fatica a vederla rottore si se riesci a fare un mio saltino così che posso proprio mmm wow perfetto ahia no un pugno dei top un salto scusi eh 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 se abbattivi da fisiche mi perdono eh va bene eh va bene ci metto adesso carrello un attimo proprio qua guardi vuole fare un controllo fuoccurato come si sente ecco lei dottore può anche diciamo aiutarmi a capire cosa vuole fare mi sta manando tutto ok allora serve un po' di antidolorifico perfetto perfetto è appena un attitolorifico ok ecco qua provi a avere questo attitolorifico è buono buono ecco alla alla fragola ma poi se lo sento lei è impegnata domani domani perché? è San Valentino ehm si sono impegnata va bene dottore 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 cosa fa? no ehm eh no ehm è un po' fuori dal letto signore vada proprio indietro capisco comunque mi sento molto meglio con l'antitolorifico perfetto spero che vuole uno sciroppo anche magari per per diciamo per le per un po' diciamo aiutare ad immaginare le ferite magari si è tagliato o si è sbucciato un ginocchio o qualcosa sì vale grazie ce l'ha già o quella che le do io? come? uno sciroppo ce l'ha già o quella che le do io? no 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 ce l'ho ok perfetto allora porto via la parella grazie dottoress perfetto oddio arrivederla 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 oddio c'è la parella la parella aiuta attenzione faccia attenzione allora dopo buon turno di lavoro anche a lei ma lei va a mi consiglio andare fuori servizio eh io sono in servizio no le consiglio andare un po' a riposarsi perché la vedo un po' barcollata dopo l'incidente ah non è che stia male vuol dire che aveva sbattuto la testa ah ecco qui guardi qui chi abbiamo salve ma chi? charles? guardate va tirami via un pugno a tirarmi più 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 o meno ehm cos'era quello? una maschera fatta con vero fagiano ottimo disinfettato spero penso di si bene cosa mi dice? ah niente sto ancora aspettando le sue scuse le mie scuse? lo sa che voi fate la cacca nel mio ufficio? abbiamo smesso di farlo a quanto pare no il dottor Nello continua a fare la cacca addirittura anche la nuova arrivata sa che lì si fa la cacca ok ci parlerò personalmente io so ma non l'ho fatta per me sa comunque controlli bene la un momento eh dottore dove buttiamo via le lei è la nuova arrivata giusto? ah si non ci siamo presentati piacere Emily Wilson ci riconosciamo già Emily Wilson si 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 buonasera comunque ehm vuole dove butto via le provette realizzate? nel cimitero cioè lì nell'obitorio dove fatevi anche la cacca ah ok va bene farò di tutto per farli imbestellire felici da questo momento sono pienamente d'accordo va bene vado in giro in pattuglia salve con te perfetto vederci ciao Elena spero di stare a te la raccetta ehm si cacca nella mia stanza passo e defecco nell'obitorio a breve la città ma troppo ma proprio veramente manco a pagarlo cioè non sto scherzzando io ho provato pure a pagarlo non fa niente, aspettiamo un attimo ah beh eh ci penso io che coordinazione si rubiamo in sta passando oppla ciao oh 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 picchiali 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 non picchiare me ok picchiare picchiare io vedo non sento non vedo non vedo non vedo non sento non dico eh mi sa che vado le femmine corrono più veloce degli uomini oppla no ma fermi adrian 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 pasquale pasquale oh oh cazzo adrian addio mio cerchiamo una targhetta di sangue ok b addio mio che cazzo ha fatto carmen ma che è successo eh carmen come carmen ok poi fuori allontanatevi fuori bambi che lo vedo io eh io lo vedo vedo la pistola del telefono ok ma che ha fatto eh uno due tre che cosa è dicevo nooo nooo non ce l'ha fatta ops gesù l'ha punita nooo oddio è la prima volta che io riesco ad aiutare una persona direttore ma ti spiace eh non mi spiace può capitare grazie eh eh oddio perchè corro grazie ora ci sa quando è carne aperta oddio oddio non ce l'ha fatta nooo li metto le manette ma non sono più la poliziotta neanche tu neanche io chiama la polizia cavolo ha già un oggetto dell'ospedale nella persona ah bla buonasera c'è anche charlotte ma vuoi chiamare la polizia in radio ah cazzo cazzo aggetti aiuto carmen ferma basta non puoi andare signorina no non è signorina il signore che ha rubato le macchine sta continuando a rubare le macchine eh però vada 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 annunciate queste cose no eh eh lo stavamo ricorrendo cioè la stavamo ricorrendo ma dottore eh eh rendi rendi eh eh finge finita una persona nell'ospedale per colpa di carmen ok grazie per la segnalazione eh fa delle chiamate però eh purtroppo è in corsa è un po' difficile cioè hai detto ok grazie evitano aspettare l'ospedale per colpa di carmen se vanno niente vabbè senza parola c'è io e io c'è la pa sono senza parole che agenti che agenti abbiamo lasciato nel dipartamento non mi esprimo non mi esprimo non mi esprimo non mi esprimo che agenti che abbiamo lasciato al dipartimento di amia che è successo ciao 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 ci e Niente mi Monti di sportelli ero raccolti carmen sicuramente adriana ci sta raccogliendo denti dall'ospedale ma in mano a pedra si purtroppo ma non sono riusciti neanche ad aiutarla quanto era grave ma veramente fatto perché ha detto che meno pausa e allora gli crescono le cime me al fagioli e blu torno subito devo fare una cosa vabbè signori ho visto abbastanza fatto abbastanza ciao grazie emily è sì però poi ringrazio cioè povero adriano ce l'ho fatta di aiutarlo la cerca questo l'avevo avvisato più di una volta la prima se perdona la terza si manda in coma non era così è detto vai a trovarla in ospedale a me adesso vado a prendere ti ha ragione ciao shanti buonasera che abbraccio di lato infatti ciao tutto bene tutto bene poco lavoro ho cercato di aiutare aldria ma purtroppo non ce l'ho fatta ad aiutarlo in ospedale è finito è niente niente fatto spiegata lui comunque avere forse non solo ricorderà dalla porta che ha preso vabbè comunque niente stanca sì però il bene con un nuovo lavoro comunque sì sì mi trovo bene diciamo un po più rilassante sicuramente migliore però poco lavoro ecco poco lavoro c'è siamo tanti medici e poco buonasera una sovradattora ospedale cosa c'è frenetica la vita dell'ospedale ciao ragazzi ciao ernesto ciao ernesto perché tu appari sempre da non so dove c'è dove è la tua macchina dove è la tua macchina lasciata nel parcheggio ma si può mettere l'ambulanza e le auto nel parcheggio no no è la mia privata ero a casa prima vado a chi mi aspetta nell'ospedale ciao ragazzi ma quanti medici siamo oggi oggi siamo tantissimi in servizio oggi sicuramente nessuno morirà un'equipe medica così formidabile così così diciamo incredibile che siamo uno d'uno due tre quattro cinque sei madonna tutti questi medici non ho mai visti sì anche io sinceramente poi tutti escono dalla polizia per andare ai medici tutti finiscono un lavoro per andare ai medici incredibile cioè la seconda spiaggia l'ultima spiaggia la seconda spiaggia di tutti ecco i medici vabbè l'imposante che si lavori bene poi a questo sì è sicuro la fine sempre si lavora bene però si guadagna poco e si lavora e non si non si fa mai nulla però è questo proprio unico vantaggio alla benzina gratis ah beh quello sì meccanici ma anche voi vabbè no capito papà ma niente che deve succedere ah no no parliamo hai fatto il suo spirito strano no anche se non è già stanca mamma nel braccino c'è qualcuno dell'armeria amore ci vedete sì ci lavoro io in armeria c'è Pasqua ma quando vabbè signori io devo andare via arrivo subito ok ciao Emilia ci vuoi più tardi stai attenta con l'ambulanzola si non ti preoccupare con l'ambulanzola posso andare via Eh Cuddle turn Ragazzi mi devo lontanare un attimo dal pc Oddio la barella Mi allontano un attimo dal pc Perché devo un attimo andare a fare della cosa E poi Torno da qualche seconda Ciao Ciao Grazie a tutti. Ok, rieccomi. Adrian, come stai? Purtroppo era smesso male, non sono riuscito a aiutare tardi. Mi spiace, Adrian. Oh mio Dio. Ma ti vedo... Sono rigido. Ma te e tu sei rigido? Oh mio Dio. Perché sono rigido? Ma... Ma io non ero una poliziotta? Sì, lo ero. Ah, e cos'è... Cosa... Ti ha fatto cambiare strada? Sono successe delle cose, quindi ho avuto voglia di cambiare la vita. Ah. Ma anche no. Non ci ho provato. Per favore. Un secondo neanche. Ma fai tu, fai tu, fai tu. Fate voi. C'era un cerettino. Sì, è un 100 dollari costa. Carmi mi ha portato via la pistola e mi ha portato via, Carmi. Diciamo qui qua, se vuoi la cerettino venga di qua. Fai qualche arma illegale. Ehi, Wilson. Stai fuori dalla porta tu, Adrian. Stai fuori dalla porta, Adrian. Stai fuori dalla porta, Adrian, tu hai letto. Perché? E se no non riesco di darlo. Stai lo stesso santo. Ah no, ha problemi in questa stanza. Non devi uscire. Minchia, se ha problemi. Stai a ospedale, ha problemi. Ecco, guarda, metto il cerottino qui. Perfetto. E sarebbero 100 dollari senza assicurazione sanitaria. Guarda che mescrocchi sono, nessuno. Ecco a lei. Grazie. La cosa così vuole ancora uno sciroppino o qualcosa? Eh, per gli sciroppini quando avrò l'assicurazione perché al momento non ho abbastanza soldi. Va bene, va bene. Basta che fa le adorazioni comunque se vuole. In cambio noi regaliamo degli sciroppini. Sì, si può spostare, signale io. No, guardi, puoi uscire di qua, venga. No, no, volevo uscire da qua. Eh, no, vabbè, vada pure, vada. No, venga più in qua, sennò, venga di qua. Lo apro. Oh, no, no, basta i pugni, basta i pugni che non mi prende me. No, no, la violenza sulle donne io la... Perfetto. L'accetto. L'accetto. Ma, e cosa? Cioè, l'accetto, nel senso che la spezzo. Ah. Addie. Abbiamo l'interno su di uomini invece. Ma va. Ma è rigido lui. Ma che è lui? Sì, cioè... Lei è rigida, signorina. Io no. Sono flessibile. Provare una dimostrazione pratica. Oddio, un eseguimento con la supra. Quello è Tiago. Sì, vabbè. Tiago? Micchio! Oh, andiamo! Andiamo, la spandaccia. Beh, i direttori di polizia che seguono Tiago. Ce lo chiamo. Guarda, scommetto mille dollari, chi sei tu? No! No, eh! Scommetto, guarda, mille dollari, chi sei tu quello qui? Oh, ma quanto è fatto io? Mi sto divertendo. Mamma mia Tiago, guarda. Sei fortunata che sono un medico. Vabbè. Buon divertimento. Ciao! E niente. No, è solo. Ce l'hai fatta, Perkins, complimenti. Buon forma. Grazie. Allontaniamo. Mi piace di rinunciare facile. State intraccianota la strada. Ma che casino è? Eh, minchia, stanno facendo un bordello. No, era tutta la strada occupata, c'era. Eh, minchia. Guarda, ma lei mangia mentre guida. Eh, mi dice, cosa si mangia? Non mangiando un crappel. Eh, scusa, abbiamo facciato la murta perché è aumentato poco la velocità, mentre questa mangia mentre guida. Eh, mangiare mentre guido, l'importante è guidare bene. Oh, no. L'importante è, eh, niente. L'importante è guidare bene. Non. Ma sta ambulanza la dove è spuntata? Ma che sta ambulanza? Chi è che sta parlando? La dove è spuntata? Vabbò, eh, da vederci. Da vederci. No, parcheggio, va. Questa era una multa dell'uno per cento, eh? Appla. Eh, lì, no. Come no? Detonare il ginocchio. Che significato ha? Ecco, quella lì dicevo io. Eh, zio. Ma la squadra, ma cosa c'è, sono arrestato le persone alla fine? Eh, ti acqua? Ti acqua, eh? Ma come ti acqua fa? Eh. Eh, no. Che sono carrellato con la polizia? Allora, allora. Ho preso appunti, eh. Io voglio fare gara. Qualcuno vuole donare sangue? No, mai. Qualcuno di gentile che ha buona... Mortimer, mortimer vuole donare. Buon volontariato che vuole donare sangue. 10 sangue, eh? Quante ne vuoi? 10 sangue che va bene. Perfetto, vieni, 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 vieni. Andiamo, su, su, su. Signore, vuole donare sangue? Lei che vi c'è l'ambulanza? Ho già donato io oggi pomeriggio. E doni di nuovo, dai, non... Salva sempre la vita, signore. Ho detto che non posso andare fino a domani. Ah. Ah, vabbè, che dai? Se signore qui viene, è un problema, eh. Ti do uno sciroppo che non ti fa disvenire, ti dà subito zucchero nel corpo, tutto. Ma quante vuoi fare? 10? Scusa. Scusa. Sì, perfetto. Non so che lo tirò fuori, eh. Eh, ma guarda che... Eh, no, mi occupa la stanza. Ho capito. Ho capito, ma ho avuto l'ambulanza. Ho capito, ma ho avuto l'ambulanza. Ho capito, ma ho avuto l'ambulanza, davanti a tutti i tuoi. Oh, 200 mila porti. Oh, bello, ciao. Oh, oh, ho avuto l'ambulanza. Intenzione, che devo mettere l'ambulanza proprio avanti, eh. No, ma ho preso un infarto, mi ha fatto perdita. No, ma mica inviato la gente, signori, dai. Eh, ho capito. Essere investiti dell'ambulanza sarebbe il colmo. È capito, però sta mollando. Tanto, però, ti ero sotto uno, quasi. Oh, John. Perché c'è da me che c'è a 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 te. Su io, John. Opla. Ciao, Emily. Siediti pure. Oddio, va sparita. John. Oh, eccola, è tornata. Un attimo, è quello che ti, che la spostavo pilax, se non mi la metti in ambulanza, un attimo. E' problemi logistici. No, 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 problemi logistici, se no io non riesco a mollare la manina. Ok, perfetto, ora riesco a lasciarla, perfetto. John. Perfetto. Eh no, se no non è troppo vicino l'ambulanza. Mi vedi, John? Sì, li vediamo. Ti vedo. Ah, ok. Ok, attenzione, signore. Abbraccio sinistro, li trovo più facilmente la vena. Ok, perfetto, dieci. Sì, certo. E fa doni, John? Dieci stacche. Ciao, Emily. Ok, scusami, ciao. Vedante, John. Opla. Perfetto, grazie mille, John. Mi hanno ancora seduto un pochettino, così magari un attimo mi svini davanti. Ecco qui i tuoi sciroppini. Eeeh, quant'è? Dieci sciroppi. Undici, perché uno te lo puoi bere anche adesso, così ti riprendi un po' più subito, diciamo, dalla donazione. Perfetto. Ciao, prendiamo subito. Ciao, comunque, tutto bene? Entro, salutato. Eh, scusami, perché stavo facendo le donazioni con l'agoli. Non volevo bucare normale. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. E al lavoro mi sta trovando molto bene, diciamo. È solo che c'è poco lavoro da fare. Come c'è poco lavoro da fare? Ne ha c'è poco? Non è dente per fortuna, diciamo. Per fortuna, per voi, non si fa mai male, ma sfortuna per me che non lavoro mai. Eh, va bene, dai, fai i prelievi, cazzo. Sì, sì. Vuoi fare un po' di donazioni? Io sto un po' con il boluccio dopo i giorni. Dai, non... Non muori, eh? Eh, non so, però sto un po' con il bolio oggi. Domani, che sono i giorni. Che sangue hai, tu? Io... Ah, ah, ah. Ah, c'è tantissimo lì, ah. A bici serve. Non mi so che ancora uso di erba medica, poi, per... Sì, sì, io uso sempre il bambino. Ah, allora. Anche quello, forse io non posso donare, per quel fatto. Eh, no, però... Diciamo che c'è la bici serve. Oh, Raffaele, come ti sei comandato? Va bene, allora io... Grazie mille, John. Grazie a tutti. Raffaele? Vuoi donare sangue? Eh, mi faccio. No, hai... Il pantalone è strappato, vedi? Eh? Guarda avanti. Pantalone... Oh, cazzo, il pantalone. Eh, devo andare a mettermi di nuovo. Va bene. Grazie per la mia partita. E niente. Ci vediamo allora. Ciao, ciao. Ciao, cara, ciao. Vedi? Aspetta, Carmen non informa. Carmen! Shanti! Però tu vuoi donare sangue? Che succede? Vuoi donare sangue? Sì. Ah, bravissima. Ah, bravissima. Vieni, vieni, abbiamo messi cinque polli. Bosa? Vieni, vieni, Carmen, vieni. Scemo. Ehi, ma che ho fatto? Sono perché le dette grosse. Ma? Ma che vuoi? Dove sono passato? Siete pure sul lattino. Guarda, due giorni ritorno alla normale. Siete pure sul lattino. Guarda che roba, mi stanno scoppiando, non ce la faccio più. Oddio, eh, siete pure sul lattino, così facciamo... Sì, allora ci vogliamo altri due giorni. No, è vero? Ok, cinque? Cinque. Perfetto. Non ce l'ha. Ah, vabbè, ce ne ho tanto, però... Tanto di più, non fai mai male. Ai ai, ai ai ai. Piano, 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 lo metto vai. Guarda, piano. Perfetto. Ecco qua, guarda, tu scieroppini. Sì. beh vieni uno anche adesso così che ti riprendi grazie buonissima la c'è il bellotto la buonissima bravissima shanty ottimo grazie shanty chi fu io sono più grandi del solito è vero shanty me le devo tenere ma mai mai così come mai così infatti non è di siano il costume da bagno finalmente chi si vede detto moseley non è lasciato di elizabeth appena è arrivata al vanilla che è proprio scappata scappata guardare sangue di voi due chiamo disperatamente sangue a b disperatamente a b che se se non troviamo sangue a b purtroppo del bresci che dovremmo riuscire a non sopravvivere per fortuna sono b perché non posso ma carmen che gruppo sangue sei a qualcuno che a b abbiamo pochissime pochissime sacche di a b e rischiamo di non riuscire a salvare le persone così andiamo a fare la prova di che sono così io sono a b a b lei abbiamo solo solo 50 sacche per moltissime persone che potrebbero morire sciroppini l'equivalente di quante tante sacche dona signor capo supremo nulla diciamo che si beve subito dato che dato che dato che diamo dato che diamo uno sciroppo per ogni donazione ne diamo uno in più per potersi riprendere subito dopo le donazioni interessa dovrà fare 11 ora non so però il regolamento interno che prevede che diamo diamo uno sciroppo per ogni sacca e poi diciamo io regalo uno in più per potersi controindicazione niente controindicazione niente controindicazione sono donato giocci vabbè ma dipende quante ore fa quanto costa dipende cosa sono passate ormai sei ora ecco potrebbe donare ancora qualche sacca tanto mi chiede tanto non si deve preoccupare lei non si svuota 36 40 una cosa del genere mi ricordi me la vado a prendere stasera va eh ma non so se la vuoi prendere ma davvero non la posso prendere il problema grave è che abbiamo solo 50 sacche per i restanti a b che sono in città e potrebbe servire pure lei se non dona eh vedo esempio oggi finiamo tutte le 50 sacche e oggi lei si fa male ha bisogno di trasfusione si è pure le stasacche ma che venga pure il seruto lì si era pure sulla barella purtroppo dovete metterla un po' lontana dall'ambulanza perché sennò si fuorisce si si era pure a questa parte si era perfetta 5 quante? 5 si ottimo ok piano piano lago spero che non aveva paura ottimo grazie mille grazie mille le prendo subito dei sciroppi guardi le do due sciroppi in più perché lei è a b e ha salvato molte persone e compreso le stesse che avete sul sangue è raro grazie mi vedete? sì perfetto perfetto grazie mille signore hai detto oggi tequila? no io oggi non ci sono stato per nulla ah ok ti ho mandato i tabureti e girare alla polizia perché cosa? perché almeno qui si passano un po' più di frequente ah ok io passo un attimo da burger eh sì ma dai ora prendo l'auto posso se vuoi puoi venire con me eh vabbè sì dai grazie mille grazie mille bene bene facciamo un po' di relazioni oggi grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Salve Salve Vuoi donare sangue? Si non so come funziona Prego si poggi sulla varella D'accordo Lei sa che il gruppo sanguigno è? Ah No si sieda Si sieda Da questa parte Si può sedere anche No da questa Perfetto AB? Perfetta Buonasera Quante sacche vuole donare? Due Due? Il problema Non c'è Può donare Quante sacche vuole L'unica cosa Diciamo che L'unica cosa Che diciamo Può dare problemi E che Diciamo Potrà portare meno cose Nelle sue tasche Però tipo Dopo tante 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 donazioni Perderà qualche chilo Di Di forza Ecco Quindi Questo vorrebbe dire Che dovrei donare Quante sacche Beh di solito La gente donna Dalle 5 Alle 10 sacche O più Ok 5 sacche Ok perfetto E in cambio Riceverà L'equivalente numero Di sciroppi Che lei Di quante sacche dona Perfetto Ho capito Grazie Se dona 5 sacche Riceverà 5 sciroppi Più uno Che verrà Qui sul posto Per potersi riprendere Può se dona 10 sacche Riceverà 10 sciroppi Avanti così Ecco No 5 Facciamo 5 5 5 Ecco qua Mettiamo Largo Per piano Ok Perfetto Un attimo solo Maga pure lì Tanto si riposa Un attimo Prendo gli sciroppi E' la rete Che ti cerca La rete Dell'ospedale Guardi Io penso Anche Un cerottino Può mettere Sul buco Ok E rego I suoi sciroppi In cambio Lascio uno in più Da poter bere adesso Così magari Può riprendersi Ecco Dalla donazione E poi Può avanzare Sì Sarà ripreso Subito Perfetto Grazie mille Ottima azione E soprattutto Mi raccomando Lei che è AB Purtroppo Se voi Avete sangue Molto raro E ce n'è molto poco In ospedale Quindi Se riuscirà Un giorno Magari ogni 8 giorni Venga a donare Perché diciamo Uno potrebbe salvare Pure lei E due potrebbe salvare La vita di molte persone Perché di sangue Andiamo a 300 unità Di sangue AB Noi abbiamo oltre 60 50 anche Quindi D'accordo Va bene Va bene Ci sono divenire più spesso A donare Grazie mille Buona serata Arrivederci Buona serata Che bello Un'altra persona Con AB Ho trovato Medi che fortuna Eh infatti Eh però Purtroppo Sono solo 50 unità Ancora unità di sangue In ospedale Abbiamo AB 50 persone 5 mie Più le 5 su Sono stati a 60 Eh sì dai Quindi diciamo che Pian piano Stiamo tornando Persone AB Ah magari domani Redondo Che ne sai Eh dai Tanto Non perde nulla Di che ecco Eh non so Anche che sangue sono Vuole venire a fare l'analisi Scusa per essere Non avevi Eh no no Non l'ho fatto Doveva montarmelo Vuole venire a fare l'analisi Eh più tardi Va bene Adesso vorrei svenire Una di qua O dopo No no Ma la facciamo in ospedale In posto proprio Diciamo Quello si fa Un posto proprio Con i macchinari Ah mica Passiamo più tardi Anche dove devono Apprendere L'assicurazione Amici Ma sì Quello Quello col primario È un Da un medico in sub Deve fare l'assicurazione Se non vale Passiamo più tardi Allora Aspetta Ma è sparito Ma è sparito Paramedico Io Sono specializzando Sì mi dica Mi chiamo Emily Wilson Non l'ho mai vista Sì mi ha vista Forse in divisa Di polizia Può essere Forse E come mai Abbandonato Sono successe delle cose Sono successe Quindi Ho lasciato Il dipartimento Dopo in seguito Vari cose Che sono successe E sono entrata Nei medici No l'ho già sentito Sotto Avrà letto Sicuramente Tutte le parti Sugli annunci Vari Per il reclutamento Di agenti L'avrà sentito Sicuramente In un video In cui Parlavano Dalle persone L'avrà sentito Ovunque Mi conoscono tutti In questa città Diciamo Sono una delle persone Più conosciute Di tutti Sì Per il mio lavoro Via del mio lavoro Che facevo La conoscevi Dennis Ma come Mi hai visto Qui no Ah che cazzo No No Ma comunque Non la conoscevo Piacere 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 mio Salutiamo Eh ma Ma ganci pure Ma sto salutiamo Eh Minchè Lo devi imparare E' un piano Tantemente Tra la testa Cazzo da fare Stasera Niente In blocato Non c'è un cazzo Viene Sì Andiamo Andiamo a berare Qualcosa Minchè Adesso Qualcosa Di perdo Eh Vediamo Alla chiamata Ah comunque Domani Venga a ridonare Ma hai convinto Va bene Ottio Come c'è un sangue Raro Dai Eh Paramelo Finché non arriviamo A 100 sacche Indisponibili Non siamo mai sicuri Di poter riuscire Allora domani Vengo a ridonare Perfetto Ottimo Grazie mille Salutiamo Arrivederci Saluti Saluti Sera Salve Tutto bene Salve Wilson Ho sentito che è diventato medico Sì Sto andata specializzando Tutto bene Sì Tutto bene Tutto bene Dai Tutto bene Sì Come siete a B A B No no B B B B C'è un problema Eh a B Ho le orecchie U A B Sento solo quello Eh lo so Lo so Comunque no B Sì siamo messi bene Ma di più non fa mai male Ah guarda Quello che vuole Sono qua apposta Ottimo Si sieda pure allora No Si sieda pure Qui riesce a sedersi Molta facilità Si avvicina al lato E lei Nella prossima Proprio Sfai Proprio Semplificato Si sieda da questo lato Eh Esatto Dall'altro Ottimo Quante Quante Non sento Eh Cinque Ok va bene Un attimo Ok Prima di lasciare i sciroppi Perché così Mi smuoto un po' le tasche Perché se non riesco Un po' vuole di non riuscire a prendere le sue sacche Eh Diciamo Cinque sacche Cinque sciroppi Più uno in omaggio Perché diciamo Ah perfetto Uno per poterlo bene subito Così si riprende Dopo la Da per il primo Facciamo cinque Allora A posto Cinque Sì Uno Due Tre Quattro Cinque Ecco qua Con calma Non si ha Non si ha Spero non abbia Pavoro degli aghi No No Sono abituato Ormai A fare Perfetto Ok Perfetto Ottimo Grazie mille Rimanga pure solo Perché non si riprende Magari Tanto vado a posizionare le sacche Nell'ambulanza Tutto Perfetto Eccoci qua Ottimo Perfetto Allora Sì Tutto a posto Tutto a posto Ottimo Sperando che Si sente un attimo male Bevano un sciroppo Oppure No Tanto guardi Come sta andando la giornata oggi Penso che staremo fermi Tutto il giorno Eh guardi Se la polizia Non è ancora Notato quella blista Lì dietro Perché è giata male Eh ma guardi Non lavorano più Come lei Io Mi piaceva lavorare un bel po No qua purtroppo Ultimamente Ho perso un po' la mano Io I meccanici Non li facevo mai annoiare Almeno quando potevo Vabbè Comunque Purtroppo La gente non cambia mai Eh Va bene allora Adesso mi sa che torino in ospedale Deve sbottarmi un po' Perché c'è un pieno di sangue Assolutamente Vabbè Adesso a vederci Adesso a vederci Adesso a mangiare la mozzarella in carrozza Mannaggia Mannaggia Adesso a vederci signori Vado all'ospedale Poi torno più tardi Ciao Emily Ciao a tutti Adesso a vederci Ti giro una foto Non do più Quanti siamo oggi? Bella 57 Prima Prima domenica. Dove la trovo? All'ospedale. Che è sta storia che dobbiamo cagare nei cespugli? Come si è sempre fatto. No, si è mai fatto. Sì, sì, invece. È sempre stato all'obitorio. All'obitorio, all'ufficio del dottor Felice, lo possiamo cagare nell'ufficio del dottor Felice. Non si caga più nell'ufficio dell'ospedale, nell'ufficio dell'ospedale, punto e basta. Non si caga più all'inizio dell'ospedale. Comunque, ho raccolto a D, ci sa che è D, a B. Qualcuno che lo fa sparire dalle casse dell'ospedale. Qualcuno che inizia con la F e finisce con E dice. Vabbè, magari ne parleremo dopo. Sì, esatto. Vabbè, comunque adesso vado a mettere in nuovo tutto il sangue che c'è, perché mi sono a riempitare le tasche di sangue. Bene, bravissimi. Ok. Sto essendo il medico legale. Ciao Nicola. È di mia competenza. Ciao Emile, buonasera. Che tua. È un ufficio di mia competenza, stendo io il medico legale. Vengo. No, di qua. L'ufficio ti è occupato in questo momento. Infatti, mi ha detto che è un ufficio. Dove devo andare in un ufficio? Andiamo sopra? Sì. Quanti cazzeggiatori siamo? Quanti cazzeggiatori siamo? Salve Emile. Barzolazzi. Eh, come sa Barzolazzi? Senta, ma la vedo proprio bene con il vestito da infermiera. Ma mi ha piacere. È un piacere averla con noi. Grazie, parla con me? Eh sì, sto parlando con me. Grazie, grazie. Eh, per me è un piacere e un onore essere vostro collega. Marfanacchi è in grigio il vestito. Chi sarà mai il nuovo capitano? Ma che è la stessa gente? No, 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 via, 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 via. Ah, posso? Facciamo un po' come i baglioni. Liviamoci dai coglioni. Arrivederci. 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 Grazie, sceliffo. Ciao, Soprano. Buonasera. Vuolete donare sangue? Se sei sangue AB potresti salvare milioni di persone. AB? Io non mi ricordo che sono A. Ma vabbè, se non lo sai non... Mi serve lo stesso? No, A ce ne abbiamo tipo 400 di unità. E la B che è più caldo sono 60 ora. Di B, ehm... Di AB sono 60 unità. In ceriferia non c'è nessuno. Di AB? Eh, di... No, di AB no. Mai visto. Non sapevo neanche che esistesse. Eh, non sono... Infatti è un sangue rarissimo. Abbiamo solo 60 unità. E prova... Prova a fare un annuncio. Eh, è già fatto. Ma non... Poca gente è venuta. Due persone. Ma non vogliono donare più di tanto sangue. Quindi 5-5 ha fatto. E non vogliono donare? Eh, 5-5-5 ha fatto. Sì, ma perché non vogliono donare il sangue? Hanno paura di perdere... Di muscoli? Ah, non lo so io. Forse. Ma che è successo in questa città che manco da 6 giorni? Eh? Cos'è successo in città che manco da 6 giorni? Io sono diventato medico. Il capitano se ne è andato. Ah, poi? Ci sono tantissimi agenti di polizia nuovi. Come? Cos'è che è successo? Tantissimi agenti di polizia nuovi. Tantissimi medici. Ciao, Tiago. Tipo, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medici in servizio. Ah. Tipo, non l'ho mai visto con i tanti medici in tutta la mia vita. Cazzo, se i giorni successe più in mondo, perché il capitano se ne è andato? Ah, io non lo so. Dopo il giorno... Dopo il giorno che io ero sul tetto, lui è sparito. Sul tetto? Perché eri sul tetto? Eh, storia lunga! Va bene, va bene. Storia troppo lunga. Non ti rompi i coglioni. Ho avuto un momento di... In cui non pensavo a ciò che stavo facendo. Comunque... Lei, Tiago, è sangue B o AB? Se c'è la mesa non me ne guardo nemmeno. Tiago, sei AB? No, lo so. Andiamo a controllare l'ospedale? Eh, va bene. Perché diciamo che stiamo cercando sangue AB perché abbiamo solo 60 unità. Ah. Non credo di essere AB, però... Non lo so. E qual è, sei una delle poche persone rarissime AB. Buonasera, signora. Ciao, vederci. Chi era in... Noi sceriffi non facciamo il dissequestro. Dovrei chiedere in centrale di polizia. Dammi un secondo, fammi vedere. Adesso non me la vogliono fare, no, non me la fanno sequestrare. Agenti, ci sta un ragazzo che vuole dissequestrare un veicolo. C'è qualcuno in centrale? Adesso non mi mandano a far culo. Mi hanno detto che c'è i patenti e il veicolo è sequestrato. Ah, per quanto? Tre giorni. Tre giorni. In te ci potrebbe anche pagare, però l'anticipo. Non si può dissequestrare il tutto, Rivera? Va bene. Mi dispiace perché... Ahia. Il detective non sa nulla, il capitano non c'è perché me l'ha detto che è andato via. Non so chi chiedere. È il sergente Perkins. O il tenente Waves. Chiedete al tenente Waves, magari lui che ne sa un po' di più, dai. Non c'è il tenente Waves. Ma c'è il sergente Perkins. Manco quello. Sì, c'è. Che è? Sì, sì. Il radio non lo vedo. Io sì. Ah, eccolo lì. Tenente, tenente lui? No, sergente. Sergente Perkins... Ma che la sai... Sergente Perkins è in città. Ma la sai meglio del... Sì, infatti, vabbè, sembra me la radio è collegata. Sergente Perkins è in città. Perkins. E c'è il signor Tiago Garcia che vuole sapere se può... Mi sembra stare la patente di auto. Di prendersi la patente il veicolo. Pagando, vabbè. Tiago Garcia. Specifica pagando, perché sennò... Eh, perché è l'unico coce che tengo, quindi... E se dicono... Nooo... Nooo, no, quando mai quello... Quello no, che sono scappati uno dalla polizia. Sì, quello scappa sempre dalla polizia, sì. C'erano poche battuglie attorno a te prima. No, sì, infatti poche. Non c'era un cazzo da fare. Soprano, qui mi dicono che ti devi occupare tu. Va bene. Il signor Tiago può riavere la patente e il veicolo. Mamma mia, che passaggio di persone, oh mamma. Adonso di aspettare tre giorni. Vabbè, stai divertendo a seguire le mosche ora, dai. Eci. Arrivederci, signori. Mi dispiagge. Se fosse per me. Eh, se fosse per tutti. Eh, sì, ma ci stanno fuggendo le persone. Io non ho mai fatto una multa, Emily. Io ne ho fatte tante, ma ne ho anche scontate il triplo. Eh, va bene. Ne ho fatte tante, ma ne ho scontate il doppio. Io non ho mai obbligato a nessuno a tenere la macchina sequestrata per tre giorni e la patente. Mai ho obbligato a nessuno. Cavoli loro, voglio dire. Ma come se vieni, vieni a prenderli per il culo, a vedere. No, no. No, ti porto in ospedale, facciamo una visita per vedere il gruppo sanguigno. E vediamo un po' cosa sei. Oh, questa è una sequestra, no? Cioè, ma una volta, cazzo, le macchine vengono sequestrate. C'erano i meccanici in piazza centrale che si le stanno grattando le palle, mio mio. C'erano una cavolo di volta che ci sono i meccanici che si grattano le palle. Non li chiamano per sequestrare, cavolo. Io facevo le ore d'attesa per sequestrare la macchina. Tiago, vuoi scendere? Voi chieditelo giù io. Allora, per come... A tutta l'arangino, per disposizione... Eh, sì, eh, scusa. Comunque, sto dicendo. Sono un sacco di macchine in giro abbandonate perché giate male. No, i meccanici che si gattano i coglioni in piazza centrale. I cavolo, facevo le ore d'attesa per se questa era una macchina, io. Quando tornavano i meccanici perché non c'erano. Ora che ci sono, nessuno le fa. Vabbò. Oh, madonna mia! Ma salve, Vinso! Complimenti per il pazzo in carriera, eh! Poi quando ha valido i miei 2.500 dollari, mi faccio a bel fischio. Complimenti proprio, eh! Sparisci! Complimenti, mi raccomando, è in alto la corruzione e abbasso il sudore. Arrivederla, eh! Salve! Grazie, vieni pure. Ciao, Emily. Ciao. Volevo ringraziarti per oggi. Grazie per avermi spiegato. Niente, niente. Vinni, allora, facciamo il nostro controllo, il nostro prolievo di sangue. Vediamo un po' che gruppo sei. Dammi il braccio. Ok, grazie. Perfetto. Ok, a posto. Facciamo un controllino. Tipo B. Sangue di tipo B. Ah, ok. Ce ne abbiamo un po' di meno di sangue di tipo B, confronto l'A, però... Però la B è quello che serve. Va bene, allora, grazie. Segnatelo a qualche parte o che lo segno io, anche su database, eh? Eh sì, segnatelo anche su database. Ok, allora, ho bisogno dei suoi documenti. Sei. Ok, lì, reception, che segno è su computer. Tiago, oggi è un problemico comunicare con le persone, che ti vedo un po'... No, no, tutto niente, tutto niente. Ti vedo un po' addormentato. Ok. 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 Ciao, Artic. Guarda, guarda, copio. Quel lavoro che ha fatto... Che ha fatto Grave. Mi raccopio nel mio... Cartelle mediche. Tutto è felice. È impegnato. Va bene. A posto così, posto, segnato l'ogruppo. Va bene. Bene, bene, allora, qui i documenti. Grazie. Ok, facciamo che la resina non ti preoccuparla, la pago io. Cioè, non ce la pagare nulla. Te la sconto questa. Grazie. Va bene. La posta, no, perché dopo, già devi stare a piedi per tre giorni. Ti porterà bici in giro. Eh. C'è forse. Vabbè, troverai passaggi. Sì, sì. Vabbè, ci vediamo, ciao. Ciao. Ma Edison non ve lo verrà un po' di giorni. Sì, sì che arriva... Nessi piccolissimi che state ha scritto tutti i suoi dati, quindi li copierò da lui. Li ho copiati da lui. Dottoressa Wilson, ce sono io. Degolintop, ciao ciao. Benvenuto. Bentornato. Carmen? Dov'è il divano, il letto? Eh sì, ormai ti sei trasferito alla garage centrale, tu. Tutti siamo qui, più o meno. Beh, tu sei sempre qui, gli altri invece vanno e vengono. Avranno più cosa deve da fare. Ma tu lavori o no? Non sono sempre chieste questa cosa. Ormai non più, lavorano i ragazzi, però. Ma perché tu non lavori? Ma tu come puoi guadagnare? Cioè, poi finiranno i soldi che c'hai, mannaggia, ma quanto sei ricca, Dio mio. Una volta che ti compri una a casa, le macchine, che cazzo te ne fai dei soldi? Eh, ma la macchina mi dà una tassa settimanale. Ah, mi dà una tassa settimanale, ok. Perché se no, cazzo, come fai a guadagnare? Eh, beh. Tu dobbia dire quell'altro. Cioè, ormai che ho un fondo, però... Chi è? Aspetta. Mitch! Sì, sì. Buonasera di nuovo. Buonasera, adorata. Buonasera, adorata. Dove è? Eh, la telefona, parla al telefono lì. Ah, lì. Volete donare le sangue, vuoi due, che ecco, non avete un cordonato? No, basta, ma gli ho donati venti. Venti? Sì, sangue a B. Complimenti, mi stiga la mano, veramente perché lei è un eroe, è un eroe. Lei dona 20, 20 sacco di sangue a B. Sono un po' pentito, mi sa, però vabbè, l'ho fatto. No, no, lei è veramente un eroe. Basta che va in palestra, recupera subito tutto. Sì, sì, ma infatti vado in palestra. Comunque, se vuole donare la B, lei è sempre richiesta, ecco. Perché diciamo, pochissime. Capito. Allora, grazie signore, dietro di lei anche... Ah, sì. Vediamo un altro, abbiamo donato altri dieci sacchi, quindi siamo arrivati a 60. Ah, a posto. Eh, allora è meglio così, dai. Ottimo, ottimo. Mica, se vogliamo comunque. Arrivederci. Arrivederci. Tanto non c'è nulla da fare, sto qui a chiacchierare anch'io. Ah, vabbè, no. Per una pausa, magari. Ma questa è la pausa, in pratica. Bassa. Ah, vedi. Che fai tu? Tu bassa. Ma non è bassa, che dici? Io basso? La voce, lui, lei... No, no, non ce l'ha giusta. Parla, amore. No, no. Sì, è un po' bassina, però è... Eh, ragazzi, probabilmente non sto urlando, è questo il discorso. Eh, forse. Sono svegliata da poco, dove c'è il tempo di... Ah, eh, eh. Ah, io non lo so. Ok. Ah, io non lo so. Sì, è meglio. Sì, è meglio. Eh, adesso è decisamente te. Cazzo di mano, c'erano due per ogni... Perché c'hai senzio qua? Perché ogni volta mi dimentico l'ansia di dimenticarmi qualcosa, no? Ma chi vuoi che entra, scusi? Cosa che c'è? Eh? Cosa che hai detto? Che? Hai l'ansia che entra? Cosa? Che mi dimentico qualcosa, no? Ah, che ti dimentico io. Sì, è un plato. Sto senza cibo, per capire. C'è, è l'ideano, è l'ideano. Grazie. Ma comunque è solo, tutti con le stesse auto stanno in giro. È un po' di fantasia. Sì. Oh, buona essere qui. Ah, buono buono. Ma, ce l'ho già... Anzi... Eh, non lo rompere, adesso te le tieni. Ma a Danny gli faccio un regalo. Ah, ok. Un regalo che non puoi rifiutare. Sì? Sì, sì. È che? Eh, dopo te le faccio vedere. Ah, vabbè. Ah, scommetto che là sopra c'è qualcuno che conosco, che ci guarda, spè. Mink, che ci guardano? Che cazzo è quello che ho visto? Mink, saluto allora. Ma lo conosco. Lo conosciate voi? Che mi indietro? C'è, c'è. Io... no. Quindi lo posso non dare a fancù? Forse tu Carmen lo conosci? Sicuramente. Carmen conosce tutti, signori. No. Non è quello che gira ogni tanto con la bionda? Non lo so. Ti goderi, c'è. Ma cazzo la fa? Aspetta che ti mostro il cacchio, me ne frega. Guarda, qua devi stare attento anche a che guardi, salmai che si sentavano fesi. Vabbè, se voleva tolare, ho detto medio, non ha fesi. Eh, io ho... oh mio Dio. Guardali, 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 guardali. Guardali ora. Oh, sono due. Cioè, questo signore mi ricordava qualcuno. Mi stavo sentendo male. Chi ti ricordava? Nino, guarda questo signore come vestito, come conciatto. Chi ti ricorda? Niente. Ma chi ti ricorda? Niente, io non me lo posso... cioè, io non me lo ricordo. Non mi ricordo se è Michael Collins. Camisa nera, pantaloni così. Cazzo, hai ragione. Eh, niente, dai. L'hai visto? Sì, l'hai visto bene. Hai ragione. Ma che avevo voluto? Mamma donna, è vero. Oh, Tiago! Salve. Carmen, l'ho fatta notare che assomiglia alla persona. Ma è lui, Tiago. Mica, stringimi la mano. Mica, vieni qua, vieni qua. Abbiamo visto prima a prendere per il culo di sviluppi. Complimenti, veramente. A quanto pare si divertono a occupare all'autoscontri, quindi... Eh, ma a quanto pare non c'è un cazzo da fare che siano tutti a riseguire una persona. Ah, vabbè, da tutto mi stanno dicendo... Cioè, voglio dire... Eh... Cioè, non è tanto quello il problema. A me non pare che non abbiano nulla da fare. Lo so, attimo la mia macchina, prima che poi si perisce. Allora, ma se questa cosa potresti diva svelire... Se divertiranno e seguire le muscoli... Ai 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 ai, a me non lo facevo a queste... Queste stronzate, io. Io sequestravo, io sequestravo tutto, ma non... Che mi hanno preso la macchina e mi dicevano, signorina, si calmi. No, no, io sequestravo, facevo a stronza certe volte, ma non obbligavo mai gente a rimanere tre giorni senza auto e senza patente. Cioè, queste cose stesse ore sono stronzate che non ho mai fatto. Ma sì, ora si divertono a seguire le mosche, chi se ne frega, dai. Eh, beh. Mi divertiranno a fare... A girarsi i pollici. Tanto, sembrerebbe a meno solo quello da fare, ultimamente. Esatto, esatto. Invece di cercare le persone che devono cercare, stanno a girarsi i pollici. Ah, aspetta, ora gli è arrivato un nuovo gioco, i lampeggianti nuovi. Ah, sì, sì. Perché L500, un giro con i lampeggianti... Esatto, vanno in macchina a mettere i lampeggianti ora, solo quelli fanno. Si divertono ad andare fuori servizio con i lampeggianti. Facciamo stare, va? Perché se no mi partono un po' di... un po' di palavra. Eh, guarda, Tiago, tu sai già cosa pensavo io. Poi ora che sei pure dimesso il capitano? Basta, ora sono veramente lasciati a se stessi. Ora sono veramente lasciati a se stessi la polizia. Eh, veramente. Carmen, non è che sei dimesso Cornelius, basta, la polizia è lasciata a se stessa. Se facevano già schifo prima, ora fanno schifo. Cioè, ora sono proprio lasciati a se stessi, chissà come cazzo lavoreranno, guarda. Ora sono alla frutta. Ma è bello che anche le sceriffi è questa cosa, anche loro non hanno lo sceriffo, ma è città. I dattini. Sì, sì. Guarda. Cavoli loro. Ca... Guarda, te lo posso dire, cazzi loro, guarda. Eh, cazzi loro. Cazzi loro, veramente, si arrangiano, si divertono a stare a fare quello che vogliono fare. Sì, sì. Ma saranno lasciati a se stessi ora, vabbè, dai. Io dono ventisacque di sangue. Ancora? Ancora ventisacque di sangue. Sì, sì. Abì, faccio palestra. Ottimo, venga. Faccio palestra per rimanere quando... Montanale, è un frosetto, ho fatto... Parisi da qua. Devo sedere. Si vede che la sposto un attimo da qui. Vabbè, ma dobbiamo andare in ospedale o poi fanno... No, posso farlo anche qua. Ah, apposta. Un attimo che la sposto qua, però che se non poi lo vengono d'ossa. Non c'è una moto. Sì, sì, da pure. Io ti direi di venire più in qua, Emelie. Ah, a perdere, eh. Ah, si siede da questa parte qua, si siede. Ma secondo me è meglio che ci spostiamo, che c'è un casino qua. Eh, ma il problema è che... Oh, vieni più qua, qua. Dove vai? Aspetta, posso portarmi alla casa? No, non puoi. Mi vieni qua. Mi siedo? No, mettila qui, mettila qui, mettila qui. Tu puoi, io non posso però, perché se no mi vengono d'ambulanza. Ah. E tu invece puoi metterla fino a qui. Qui? Sì, sì, sposta la più vicina all'ambulanza, posto. Sennò a me me la mette... Posso lasciarla? Sì, sì, lasciala. Perfetto, siiediti pure. Da un lato, magari con l'interno, che è più comodo. Sì, quelli qua, magari. Perfetto. 20? 21. Ok, ho paura di non riuscire a tenerle, un attimo, eh. Guardi, inizio, le do le sciroppi. In frattempo che mi auguro questo spettacolo, penso di cercare qualcosa da mangiare. Sennò a 21, si sa che le do 22 sciroppi. Ma avete chiamato? Allora, pronto? Sì. Allora, mi raccomando, non deve, non deve assolutamente, crollarmi da anti, perché se no mi... No, 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 non la crollo, sia tranquilla. C'è un suo sangue pompato. Pronto, iniziamo, 21, eh 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, ok Madonna Non ho mai visto così tanto sangue Porca puttana che botta Oh mio Dio Mi alzo un attimo Porca puttana Ecco, guardi, devi dare i sciroppi Ne beva, guarda, venga, venga, guardi Le regalo pure se dici sciroppi perché lei è veramente Lei si diverta a bere questi sciroppi, ora così si riprende, beva un po' Grazie, dottoressa, grazie Dimanteca bene, si ricordi, guardi Lei è un eroe Grazie, sì, sì, grazie Tutte le vite me lo dite, però Vabbè, vieni qui, Danis Sì, sì, ho finito Se si sente debole, beva uno sciroppo Sì, ne muo, aspetta Complimenti Sono trenta di sciroppi Lei, signorina Signora, signorina, non so se siete sposati Sì Signora, lei è fortunatissima davvero un marito come lui Una ciambella buona Bene, allora io vado a mettere i sacchi in ospedale Che se non dovrei che andassero, lasciamo a scadessero Ok, a posto Grazie mille Grazie mille Grazie mille, dottoressa Grazie mille Grazie mille Grazie mille e più di più oddio ho raccolto 21 sacche di a sangue ab una persona molto buona ha donato 21 sacche si è squagliato è rimasto solo i vestiti ma diciamo ha fatto fatica di alzarsi dal lettino però ha fatto bene uno sciroppo si è ripreso comunque ci servono anche dei pesci pesci e bisogna chiamare pescatori non ce la conosce qualcuno io dobbiamo rifornire pesci dove chiedere al burger certo delle conoscenze al burger loro hanno contattivo i pescatori vari anzi ho visto sulle bacche che se non ci diciamo online che c'è un pescatore che si fa spesso a pubblicità sì un attimo che te lo do eccolo qua ricca taglia sei pronto nello anche jack white ok datemi questo ricco allora incomincio io ricca taglia 5 4 7 4 9 7 2 ripeto 5 4 7 4 9 7 2 perfetto perfetto dammi pure l'azza jack jack j a c k white il numero è 0 7 5 4 4 7 7 ripeto 0 7 5 4 4 7 7 non ho mai visto tante sacche a bing si infatti sono tantissime sono emozionata chiamo pelotti che ne lo vedo io ci provo ho raccolto 21 sacche di sangue a b fantastica c'è una persona che ha donato 21 sacche cioè mi è quasi morta davanti però l'hai suonata appunto però stava bene poi alla fine ho fatto tantissima palestra quindi diciamo che prendi nel massimo 10 normalmente eh ho detto fa mi disse sono proprio vabbè io ho detto voglio battere il record 21 sacche vabbè comunque prendi nel massimo 10 normalmente sì 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 no mi ha fatto diritto io ho fatto diritto di solito facciamo sempre dalle 5 alle 10 massimo 15 massimo 15 no io ho 21 io sono a correre in riunione con gli avvocati ci sentiamo troppo ok ciao allora ho sprosciugato una persona ma mi sono per curiosità chi era questa persona? eh ero col codino aveva in giro col codino vestito elegante in piazza centrale era eh non lo so vabbè eh in realtà tempo fa c'è una specie di come dire una specie di stile in questo del genere comunque tu lo conosci Totò Totò Pesce? sì ok chi riesce a fare a far fare una donazione a Totò Pesce e come se vincesse tutto vince tutto lo chiamo eh un attimo eh non ci riuscirai mai un attimo io sei in città però è inutile che ci provi è inutile è inutile è inutile ti fa toccare eppure lo credevo rincontrare io comunque se vanno le prove che se riesci a fare di donazione del sangue se vanno le prove ovviamente che le hai fatte non è che poi voglio fare un video delle persone bravissima 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 se lo riesci a fare veramente ti do il mio statoscopio il mio page ti do tutto attento attento quello che dici attento 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 quello che dici che guarda potrei ricordarmelo eh facciamo così facciamolo direttamente visto che con questa cosa proprio io non posso farla materialmente però metterò spingerò per la tua promozione per accelerare i tempi va bene? ottimo guarda non ti preoccupare che io lo pesce lo conosco da anni e vedrai che riuscirò a a fare in modo che lui donerà qualcosa ce la farò non devo uscire con una sola sacca perché una sola sacca e almeno almeno cinque dai almeno cinque sacche e farò questa cosa ok? se riesci a far donare a Totopesci cinque sacche di sangue io vado dal primario dal direttore e dico adesso ce la farò non ti preoccupare vabbè io lo spero per te uno perché così possiamo donare del sangue a Totopesci che non ho mai visto una sacca di sangue mai due beh stavo felice che poi ti prendi la promozione anche tu per te e bene che ci siano più persone competenti non dico che non sei competente ma se diventi un premiere un medico eh va bene ma Elisa non avere la tampa Elisa non l'ho vista un paio di giorni fa se no non so solitamente lei fa il turno più tardi arriva verso oggi per mezzo ecco ecco Nello ho provato a chiamare ma il signore mi risponde non parla è scostumato ma chi? white o l'altro? ehm ricordo uno come si chiama ricordo? no io ho mandato un messaggino sul telefono scritto mi servo pesce per cosa ti servo pesce? no no voglio meca 3 oh no ok è una cosa però mi devo far pagare da charlo lei è medico giusto? lei è Antonello com'è? sei medico tu Antonello vero? ehm si diciamo infermire esperto quasi medico ormai ah ok sei hai scelto la hai scelto la specializzazione diciamo che io sono fatto un corso online e poi ho fatto un corso pure qua all'ospedale mi hanno preso come specializzante poi sono entrato come infermire e poi alla fine comunque sono ancora infermire però di grado superiore sono allo stesso livello dei medici come importanza come te hai scelto una specializzazione da prendere? hai già intenzione che cosa... di che tipo? mi occupo di malattie dell'apparato gastro-intestinale ah beh un gastro-enterologo un gastro-enterologo un futuro gastro-enterologo avremo eh specializzato in tutto quel tipo di malattie ma tu invece Nicola in cosa sei diciamo specializzato? a me piacerebbe seguire un corso ancora più applicato ho seguito diversi corsi però ancora più applicato sulla cardiochirurgia eh cardiochirurgia è quello che comunque volevo buttarmi anch'io no perché mi piace molto ma anche chirurgo vascolare mi piacerebbe molto è vera tu adesso sei chirurgo quindi cosa ho per il tuo di solito? eh diciamo... chirurgo generale? chirurgo generale quindi mi occupo un po' di tutto però... Senti dovremmo mandarci a prendere una birra tequila la che dici? io c'erano già... ci erano già un bel po' diciamo... oggi ho chiamato... oggi ho chiamato il servizio a domicilio del mojito in e mi hanno portato 5... 5 bistecche e 5... mmmm... biere analcoliche pensavo a 705 bestemmia no... sono alcoliche però si capirano le cose che... ehm... te le sei bevute tutte quante? no 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 non tutte quante no no ce n'è ancora alcune un po' ah hai fatto ascolti? ti diciamo... eh sì perché corro avanti e indietro per fare il medico quindi... consumo consumo mi devo risiettare dovrei dilatare dovrei dilatare poi ora c'è pure il sole c'è il caldo quindi inizia a correre col caldo tu sei col baci con le maniche lunghe ancora, anello si si no io devo dimagrire ma con le maniche lunghe cos'è? non hai caldo? c'è ma che sei leggero? questo è leggero sempre pesante ma leggero è di... è di lino è di visita hm ti tratti bene eh? è lino usa ti tratti bene anche se all'ospedale non mi chiami io me lo andrei a fare un girare la tequila non so ci si può venire a me mi siamo molto tranquilli il lunch oggi ovviamente manca una chiamata un paio un paio un paio un paio vieni Emile vieni Emile io però giriamo con la macchina d'uffis così nel caso devo andare via tra poco io però stanno 7.000 ambulanze qua fuori ehi a me mamma mia era quindi tu la mia ti via ti la mia ti via che la chiami no sto dicendo alla signorina eh ti manda le vite mamma mia ma dai Emile vieni giusto una birretta una chiacchiera questa è la mia ambulanza me la porta dietro ok che non vorrei magari che ho delle sacche dentro anche quindi va bene va bene se volete venire è guidito facciamo due macchie mi seguo mi seguo vai grazie caro cittivissimo e la signorina sono qui l'ambulanza presto perché se ne va prima ah ok andiamo ma com'è finita dentro maaa maaa la vincita la vincita la prossima e io non lo cura quello eh ti prendo a calci in culo io eh giustamente hai fatto buono ma hai c'è le prisa calci in culo qua sarana go sarana go Che è cesso? Un problemuccio Greatore? Il banco, Matt, sai che non ricordo? Dovrei aprire tutto in città No, è l'altra parte della strada, arriva Ah, ok, ciao allora Madonna mia, ma lo potrebbero pulire il banchetto Stavall, sto banchetto, sempre una merda, eh Ma il menù, chassate, cosa dici? Non riesci a leggere con quegli occhiali Eeeh, Bill Bill Burger Oddio, guarda, il problema è che con gli occhiali vedo anche le cose nel dettaglio Non le voglio vedere nel dettaglio Tu fai pure, prendo un caffè Eh, ma qualsiasi me lo prendo pulito Guarda che questo non lo pulisce il banchetto, ah Eh, da un bel po' che non lo pulisce Eh no Mamma mia, schifo Ma poi scusa, nella Walk of Fame me lo fai Guarda qua, ci sono le grandi stelle del cinema come questo Qua come si chiama Mauriz Mauriz Eh, Mauriz, famosissimo attore Questa qui invece chi è? Mitch Dexter E quel, bravo, quello che è Mike Ride, di lei Oh, vabbè, lo conosco E te dice, beh, brava, bravissima attrice Sebastian Cayden Famosissimo Tony McTony Tony McTony Tony McTony Sì McTony Sunshine Shine Tony McTony Sunshine Shine, fantastico ragazzi Chip Hampton Anche Philip Michaels, bravo C'è famoso Signore Chi è che non hai visto i film? Dottor Nello, ma siamo qui, in attesa Eh, io mi so pensi mai a stare, dove siete? Dove siete, siamo al chiosco degli aboghi Signore Nello, mi mangi la posizione, la veniamo a prendere Lavorare mai, eh Ah, sta parlando con noi Vabbè, dai guidi Questo non è definito poi, nell'ufficio di platerare Abbiamo finito di platerare, abbiamo evitato che Se c'è una gente causa l'ospedale, non è che avrebbe perso Nella mente, però E allora Non ho capito, è la causa che facciamo noi a lui non c'è Mi eviterei al momento Dottor Nello, sto portando un tuo messaggio, la posizione E mentre, per quanto riguarda il direttore, il timario e il resto Se volete raggiungerci, siamo venuti ad alta seguita Non vi raggiungo, non voglio fare cagare gli obiettori Ma dai, vieni, dai, una cazzina E io allora non vorrei stare con qualcuno che tiene gli attazzini in E... Ma che ci fa, vieni, non è cazzino Beh, sì, alla pidera sono stato rispetto e andavo in girotto Se io sulla gente Mi ricordo che è a radio con noi La macchina della polizia che si guarda Abbiamo un problema, abbiamo perso un altro Sì Aspetta, va Vado a scendere, eh Fammi scendere un attimo Un attimo Magari lei lo sta salendo da qua Sì, scendi Ok Vado a prendere la macchina e ci spostiamo da questa zona maledetta Ok C'è la pattuglia che ci guarda Nicola Eh, vabbè, è una pattuglia di polizia che fanno, ci rapirano Ah, c'è la pattuglia che ci sta guardando Due pattuglia che ci guardano Ah, eh, vabbè, a me non mi vedranno perché sono crashati Sai che rientro Colleghi, ci siete? Antonello è sparito Anche lui Anche lui Ok Ok Prendo un caffè e arrivo Vediamo che vado a vedere Spero che la patola non ci si può vedere pure qui, ecco Eh, vabbè, vi ho perso qua Aspetta un attimo Ah, eccoli Non vedo, guidatore, non vedo Emergenza Nello, vede le ambulanze? Nello, vede le ambulanze? Sono arrivato, scusate, ho tutti i problemi Ma dove si trova? Eccolo, ecco Ah, eccolo, lui lo abbiamo qua, perfetto Possiamo evitare di salire questa salita? Eh, appunto, il problema è che adesso dobbiamo aspettare che si risvegliano tutti Che devono tornare dalla salita Eh Ah, ma questa salita è maledetta Eh, sì, tutti, tutti E secondo me hanno buttato il gasso a porifero là, eh Può essere Ah, ma che è esserlo? Oh, sì, che si addormentava Ah, devo andare io Ah, va bene, allora, arrivederci Oh, sarà grande palla Arrivederci Come è successo il palo Vabbè, era solo È caduto un panno Allora, signori, arrivederci colleghi Vabbè, arrivederci Arrivederci E' la mia Oh, sì, che si addormentava Oh, sì, che si addormentava I colleghi sono Mark, dove siete? Mark, abbiamo posto una chiamata di emergenza, potete tornare in ospedale e prendere una... ci vediamo dopo la... ok, perfetto, potete scusare... scusaci niente, niente, a dopo no, non vedo nessuno, dove siete? noi stiamo andando all'emergenza, la signorina Emily è dovuta andare via perché era tardi quindi purtroppo ho preso il taxi o vi ho organizzato scusate ragazzi e resta... ciao buonanotte buonanotte Emily aspetta aspetta resta fuori oddio vabbè ci vediamo ok il campione è come sospettavo di quel parassita ma... non mi devo preoccupare e... arrivederci direttore arrivederci arrivederci va bene ragazzi io concludo qui la live vi ringrazio per tanto per essere qui con me vi ricordo di mettere un fallo potete guardare le repliche e tutte le repliche delle live sul mio canale infatti punto esclamativo a comandi per vedere tutti i comandi e... vi ringrazio di aver guardato e ci vediamo domani ci vediamo domani per... per una nuova live molto probabilmente anche... non lo so vedremo ciao è tornato